Ciao, sono Antonella Elia. Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a Temptation Island perché mi sussica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini. Sono un uomo del sud. Ho una geosia proprio fisica. Non deve farsi toccare neanche la mano e i piedi, è meglio. Evitiamo. E cosa faccio? Temptation Island, prossimamente su Canale 5. Temptation Island